Io sono Eliana Tomminelli, molto più brevemente Naelia, per cercare di realizzare questo progetto che ho nel cassetto che si chiamerà La coerenza del camaleonte ed è una collezione di brani, di pezzi che ho composto, che ho scritto. Sto portando in giro un live apustico, piano, chitarra e voce e al cajon, batteria Roberto Pistolesi. Diciamo che il live prima del disco è il progetto attuale legato al disco. Ho cominciato a scrivere da piccolina, forse perché uno ha un amore incredibile per la musica e poi forse è un'esigenza quella di comporre legata a ridare un po' un senso a cui sono sensi della vita. C'è la composizione che la vedo come un modo... Amo molto il jazz che è l'opposto praticamente, nel senso almeno filosoficamente parlando, e proprio ti perdi in una non composizione, in una continua improvvisazione che è anche al modo suo una composizione. Io sono sempre molto favorevole a questi spazi che ci sono, si offrono per la musica. Quindi le mie impressioni sono assolutamente positive, è stata un'esperienza carina poter assolutamente presentare alcuni dei brani, un modo per, uno, condividere la musica, due, ascoltare anche altre persone, quindi è assolutamente positiva. Birra!